Buongiorno ragazze, oggi sono stata da Prenatal perché vi ricordate che l'altro giorno vi ho fatto vedere gli acquisti che avevo fatto da chicco? Ebbene ho dovuto rendere entrambi i pisani perché erano piccoli, erano 7 anni. Gli andava perfetto quello bianco con le righe e i cuoricini, mentre quello l'altro era piccolissimo, non riuscivamo. I pantaloni erano un modello troppo stretto e va bene per quelle bambine magrissime con le gambe lunghe lunghe secche secche, non per la mia. E quindi ho dovuto renderli, non c'era nessun altro 8 anni neanche adattandosi sul modello colore eccetera eccetera, quindi mi sono fatta fare un buono. Sono andata da Prenatal e qualcosa ho trovato, vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato. Allora, andiamo in ordine con lo scontrino. Pantalone felpa, allora, premetto che io ho la card, la VIP card, quindi ho lo sconto, mi sembra... Non so se sia il 30, lo sconto, aspettate vi dico... Ah no, anche un 50 mi hanno fatto, addirittura... Non lo sapevo, vabbè mi ha fatto uno sconto, anche qui il 50. Addirittura... Bene, infatti quando mi ha fatto il conto, non so se mi avevi speso così poco... Ah, ecco perché. Allora, 15,99 questi pantaloni che per chi era di club passano a 11, a me li hanno passati a 7,99. Questi pantaloni qua sono belli perché sono, tanto sono grigi, sono dentro, sono per un bel felpato calduccioso. Sotto hanno i polsini e poi sono rifiniti con questa banda luccicante in oro rosa, tipo oro rosa. Poi c'è la schitta rosa anche qui davanti, hanno il polsino, che ecco il polsino piacciono abbastanza. E le taschine qui davanti e il fiocchettino qua. Sono belli rifiniti, si vede che insomma è un pantalone che costa un pochino di più. E sono contenta che fuori sia di cotone così non fa i piroli, come si dice qui da me. Poi, maglia tricot con paillette. Allora, questa qua, 22,99 euro. Questa magliettina qui ho preso un 7-8 anni, è morbidosa. L'ho presa perché adesso quando siamo a casa da scuola, lei in casa non porta mai la felpa. E dopo con la magliettina magari a freddo, oppure potrei mettergliela anche adesso sotto Natale, anche andare a scuola. Stanno bene anche con i pantaloni della tuta neri, o quei jeans. Jeans che continuiamo a non trovare. Vabbè. Questi costano, vedrete un altro video lì, perché andremo anche in magazzini Nico a vedere se troviamo delle scarpe e i jeans. 22,99 euro, l'ho pagato 11,49 euro. Quindi mi hanno fatto il 50 euro su tutto quanto. Ho fatto bene a lasciare la spesa e tornare, perché aspettate le pezze, sono quelle reversibili. Sì, mo' vabbè. Aspettate che lo giro. Diventa tutto rosso col cuore bianco, però sul rosso sta bene tutto argento. Aspettate che tiriamo giù. Argento con il codicino rosso, ma è carino anche col paillette. Insomma è reversibile, lo potete portare come volete. Vedete, clic, su e giù. Vabbè, sicuramente le piacerà un sacco. Così a occhio direi che le va più che viene. Forse un po' lungo di maniche. Vabbè, ma se vuoi faremo un risvoltino. O lo porteranno all'anno prossimo, insomma. Per 11 euro. Molto carino, un bello morbidoso, calduccioso. Poi, 17,99, penso che sia il pigiama. Aspettate un attimo, eh. Ok. 17,99, scontato di 9 euro. È il... Qua c'è scritto pile... Aspettate che... In base... Questo. 17,99, questo pigiamino che ha sotto i pantaloni. Ecco, questi, secondo me, le vanno bene. Mi sembrano un po' lunghi, ma adesso comunque quando lo laviamo vediamo. È rosa con i coniglietti. Tutto rosa, con il polsino sotto. È un pigiamotto. E sopra c'è stessa cosa nelle mani, la maglia, con lo stesso motivo nelle maniche. E sopra è bianco con il coniglietto, ho scritto Sweet Dreams. Le orecchie sono tutte lucicose. Speriamo che, insomma, le piazza perché lei se ne era scelta un altro. Ho preso il 7,8, anche qui, che fa 128 centimetri. Quindi questo l'ho pagato invece di 17,99, 12,99. Poi ne ho preso un altro, che è il pigiama. Questo è un po' di più. Ecco, su questo ho dei dubbi se devo provarglielo. Perché anche qui il pantalone mi sembra un po' stretto di coscia. Quindi glielo devo provare perché se poi non va, lo porto indietro. Anche se mi dispiace perché la maglia mi piace molto. Quindi eventualmente, dato che comunque l'ho pagato 9,99 alla fine, perché sì, 19,99 è meno 10 euro. Ho fatto il 50 dappertutto. L'ho pagato 9,99. Non ho capito perché ci fosse il 50. Boh, non so. Pantaloni rosa e la maglia, guardate che bella che è. Cioè, è strabella. Rosa con le maniche, con le maniche, con lo sbuffettino qui. Cenerentola sopra. Carino, carino. La maglia lei va bene. E eventualmente penseremo di tenerlo. Non lo so. Quindi, qui è in tessuto glitter. Qua non si vede. Non si vede l'effetto. Però qui è ruvido. Sì, se ti fa stile, può toccarlo. È tutto glitteroso. Non bisogna stare attenti quando lo si stira. Anzi, questo non si stirano proprio. Oppure si può stirare a rovescio, a bassa temperatura. Per far venire la stampa un po' meno spiegazzata. Questo è tutto, ragazze. Quindi indicativamente ho risparmiato 19, 29, 30, 30 e 50, 38 euro e 50. Quindi ho fatto bene a tornare il giorno dopo. Poi sono stata, state lì che sparisco, da Decathlon. Perché da Decathlon ho ordinato delle cose che ci servono per danza. La volta scorsa, non mi ricordo se vi ho fatto vedere, sì, credo di sì, gli acquisti che avevo fatto per lei. Comunque abbiamo preso un paio di calze, queste qui, calzamaglia, senza piede, nere, da 8 anni. L'ho ordinato e sono andata, vedete, c'è il pacco. Il pacco è così, chiuso, perché è ordinato online e sono andata a ritirare il negozio. Molto, molto comodo. Poi sopra c'è il boy. Ah, ecco, vediamo sto benedetto modi. Dieci anni, infatti, come pensavo. Vedete, il dieci anni non lo vedo così grande rispetto all'otto. Poi ne lo provo, ma lo terremo in tutti i casi. Anche perché non ho chiesto come fare il reso, ma così, a vederlo così, mi sembra, sì, è un po' grandino, lunghino forse, appena appena. Vabbè, ci serviva nero per questa attività. Che dobbiamo fare? Va più che bene. E poi abbiamo, io ho comprato la borsa per andare a danza. La borsina rosa sotto è in tessuto, quindi bisogna stare attente a non apposarla troppo in giro perché se no si è sporca. Questo sembra di velluto, in realtà è di una stoffina tutta glitterata, rosa e oro rosa. Rosa e oro rosa, lo scegli di lingua sembra. Carina, i manichini, i manichini che così lei se lo può portare a spalla o dove vuole. E qui c'è la giusta da aprire perché noi abbiamo una borsina ma è di piscina, è troppo grande. Qui dentro c'è il porta, ci sono dei vari scomparti. C'è uno primo scomparto qui dove ci possiamo mettere eventualmente il body. Ed è un altro scomparto, uno per l'acqua magari, uno per le salviette, per qualcosa, per le scarpine. Insomma, tenere tutto diviso. Vedete? Molto molto carino. Secondo me le piacerà un sacco. Adesso mangio, pranzo, poi le vado a preparare la roba che oggi è l'8 di dicembre. Ma abbiamo un recupero ad anza. E questa è la sua borsettina. Speriamo che le piaccia tutto. Quindi queste ragazze sono stati i miei acquisti da Decathlon e da Prenatal. Seguirà un video dove spero segui presto un video perché di acquisti dai magazzini Nico o da qualche altra parte perché cerchiamo con Urgenza Jeans. Se qualcuno di voi ha visto dei jeans che possono fare nel caso nostro, vi cercavo dei jeans, va bene anche essere elasticizzati. Ma anche se sono un modello classico vanno bene lo stesso. Blu scuri. Oppure, comunque non quel jeans chiaro primaverile. Proprio puramente invernale. Un blu scuro e un blu medio. Se avete visto, non so, Original Marines o qualche posto dove si può comprare e consigliarvi, fatemi sapere, ne volevo uno di una marca buona, non tipo OVS, quella roba di non che abbiano cose non buone. Però volevo una cosa, quindi non d'asilo. Una cosina un pochino più da festa. Un po' più particolare, ecco, diciamo così. Niente ragazze, questo è tutto. Io vi do le solite raccomandazioni. Si sta spendendo anche la Ring Light. Vediamo se... No, non ce la fa più. Vi do le solite raccomandazioni che sono quelle di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i futuri video. Condividete i miei video sui vostri social se mi volete aiutare a crescere. Lasciatemi un like o un commentino che a me fa sempre tanto tanto piacere. E vi lascio tutti i miei riferimenti per seguirmi qui sotto nell'info box. Io vi mando un bacio. Alla prossima. Ciao, ciao a tutte.